Un giorno avrò anch'io la mia avventura da raccontare fatta di sudore, di fango e di sfide continue ai limiti dell'umana stirpe. Hai sentito destino? La mia speme non è ancora svanita tra le anguste e asperità di una vita ripetitiva. Alan, lascia perdere quei programmi là, vai all'università che se no fai tardi. Dannazione. Tu come hai fatto quando ti sei dichiarato tua moglie? Con un prestampato dell'Agenzia delle Entrate? Certo. Perché? La sua collega del Miramar mi ha mandato qui per una stanza. Miramar? Sulle dromiti. Questa qua è la cassetta che è stata girata quando voi arrivate bambini. Thomas? Alan! Tu puoi rimanere così, mi basta rinunciare ad avere una vita. Questa qua è l'amore. Ciao, correnta. Arrivo subito. Ciao. Questo è Thomas. Eh? Primai? Luca? Grazie a tutti. Mi piace.